Un saluto cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like e i miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. La palla di pelle, rassegna stampa di oggi, 14 luglio, partiamo dal Corriere dello Sport, Euroclassico, la sfida tra Spagna e Inghilterra, la finale dell'Europeo, Fulcrug al Milan, andremo dentro a leggere, bravissima, ovviamente riferito a Jasmine Paolini, Fede su Le è un caso, Roma su Matthias, Chiesa o niente, Fritkic arriva a 20 milioni, la Juve ne chiede 30 e guarda solo all'estero, l'argentino sul quale c'è l'estero e spera di lavorare con De Rossi, chiusura il giallo della decisa chiusura di Giuntoli. Volete su Le, vi diamo fede, il talento argentino ha scelto la Roma, la Juve invece preferisce venderlo in premio e recedere ai giallorossi Chiesa, che però non lo vuole a altre Milan, Amire, club distanti, ma dentro fuori in tempi brevi. Piuttosto tranchant l'articolo di Ivan Zazzaroni, il direttore, Chiesa o Ciccia, ragazzo lo vendo solo all'estero a 30, l'out-out del direttore, sembra contare pochissimo la volontà di Soule, promesso all'estero, che non vuole trasferirsi in premio, se non in una squadra di prima fascia, e gradirebbe tanto lavorare con De Rossi. Il braccio di ferro è nato da giorni e in questo momento piega a favore di Giuntoli, che ha scelto la linea dura, durissima. La Roma decisa intanto sorlota oltranza come punta, il mio Napoli fastidioso, le parole di Antonio Conte, non temo la pressione e potremo perdere, osi, l'obiettivo è tornare in Europa dalla porta principale, e saremo feroci. Taremi John l'Inter e tocca subito a lui. Il Milan accelera e muove le torri, anche Fulcrug, con Morata e il club rossonero vuole l'attaccante del Borussia, pronto a dire l'addio a Dortmund. Parliamoci chiaro, la linea del Corriere dello Sport non segue il filone Abram, è un giornale di Roma, ha le sue informazioni, è piuttosto su Fulcrug, lo capiamo da questo. L'inglese della Roma è in partenza, ma i giallorossi chiedono 30 milioni e non accetteranno prestiti. Il Milan però, per abbassare il prezzo del cartellino, vorrebbe inserire nelle contropartite tecniche e tra i nomi sottoposti al club giallorossi c'è anche quello di Alexis Seleme Kers. Non è stato riscattato e nel Milan spera di poterlo inserire. Attualmente la Roma è fredda verso questa ipotesi, non sono le informazioni che ho io, vedremo poi se la linea del Corriere dello Sport è quella più giusta, andremo a vedere. A me sembra che proprio la Roma invece abbia proprio chiesto Seleme Kers nel caso. Vedremo, terzino bloccato, si propone Calulù, poi le versioni ognuno ha le sue fonti, vedremo se sarà così o meno. In questa ipotesi però sarebbe urgente un centrale, priorità a Pavlovich. Nicola prepara un altro capolavoro, Como, Varana, ok, ora Po e Sanchez, Cagliari, il portiere sempre, che bravo. La notte delle stelle, Inghilterra, Spagna, Jasmine, amore di Wimbledon. Il sorriso, la grinta e i colpi della Paolini hanno conquistato il pubblico, ma non sono bastati per battere la cieca Kray Cicova. L'Azzurra era agito a un avvio difficile, ma nel finale ha prevarso l'ex numero due del mondo. Non smetto di sorridere, dice Jasmine, stavolta era proprio vicina, a Parigi un match duro, qui è più difficile da digerire. Questa sera, Nole, ok, questo pomeriggio, occasione Nole tra Carlos e Roger, perché se vincessi raggiungerebbe Federer nelle vittorie di Wimbledon. Provaci ancora già, Yas, dice, scrive, tutto sport, il titolo è ovviamente dedicato alla Paolini, Thiago raddoppia la Juve, Cairo, ecco qua, Cairo, stavolta la contestazione l'hai sentita, e andiamo a leggere, l'ufficialità di buongiorno a Napoli scatena la rabbia, Cori per Zapata, applausi per squadra Emanoli, ansia per Gineitis, nuovo infortunio al ginocchio. E allora andiamo a vedere, la terza pagina, ovazione di Wimbledon per Paolini, il Paolini deve pensare che questa non è la seconda finale slam persa, ma la seconda raggiunta, la Toscana è il successo, è sfuggito per un soffio, giochi non proibiti, l'orizzonte si tinge d'oro, Nole avvisa il Carazzo, voglio quel trofeo, l'ester su lei ci siamo, chiesa a Roma porte aperte, completamente diverso rispetto a quello che dice il Corriere dello Sport, su questa questione, chiesa a Roma porte aperte, e là dicono porte chiuse, su lei ci siamo a Leicester, lui non vuole andare, anche qui vedremo come finirà, le leggi di Conte come il Napoli dovrà dare fastidio, inizia, eccolo qua, la top ten per Cairo, 22 milioni, anzi 220 milioni, il totale degli incassi e delle 10 cessioni più remonertivi per il patron, tutti i migliori prima o poi vengono venduti, così si sgretola l'entusiasmo, Cairo aveva già dato a giugno con Vanoli, ma per risparmiare la bellezza di 200 mila euro, poco più di una mancetta per lui, per il presidente, non per lui l'allenatore, per oltre due lunghissime settimane, Cairo aveva sfinito i tifosi, Vanoli e pure il Venezia, incassando un boomerang sotto il profilo dell'immagine, ed è il Torino, quindi secondo noi il denaro profuma proprio per Cairo, magari ci sbagliamo, molto duro tutto sporne con fronte del presidente del Torino, da quando ha riporato il Torino nel 2012, l'aveva fatto retrocedere nel 2009, ha porato a casa, certo, per il bilancio dei club, che però possiede al 100%, ben 222 milioni di euro, così si sgretola l'entusiasmo ogni volta, e ogni volta un pezzo in più, perché ogni volta vengono venduti i migliori, alcuni dei quali oltretutto capitani, ma se Cairo potesse vendere anche la tua speranza di veder nascere un Torino migliore, un giorno, che cosa farebbe il giorno prima? Un fila il pieno che corri contro il presidente, e gli ultras guidano una contestazione fin dall'ingresso, con una serie di canti per Cairo, vendi il Torino. Alla fine Vanoli è andato a parlare con i gruppi della curva Maratora, obiettivo Taremi è essere presso o persa dell'Inter, a Abram Caldoma spunta a Fulkrug, per quello che riguarda le manovre di mercato, stanno diventando sempre più avvolgenti anche attorno a Straingia, Pavlovici, il milenio del Milan si è posato da tempo sul difensore serbo, Mauro Lozun punta diretto sull'obiettivo pronto a colpire, anche perché Fonseca nei primi giorni di lavoro a Milanello ha spesso provato Calulù come esterno di destra. Modena che colpo, Mendes ha un passo, all'Ascoli vanno 2,3 milioni, Pogacar uno show da padrone, Juve colpidala con Adeyemi e Sancho. La cessione di Sule apre almeno altri due esterni, Adeyemi subito con i soldi di Sule, qui la fanno facile, la fa un po' più difficile i Corri dello Sport. Salisburgo per Pavlovici chiede 30 milioni al Milan, ma scenderà, secondo le mie informazioni con 22 lo porti a casa, c'è l'accordo con i giocatori che spinge per venire in Italia, e si vede già rosso-nero. Bella notizia da Andrea Ramazzotti, Milan Teo da avanti, lo che dopo il mercato è ingaggio da top. Il diavolo è concentrato su acquisti e cessioni, ma l'ex reale al momento non ha proposte all'altezza. Avrà uno stipendio in linea con quello di Leao, che è il più pagato della ronda. Taremi già pronto, Napoli seguimi, dice Conte, ora Osimè ritrova il sorriso, e l'offertona però ancora non c'è. Abbraccio Granata, amore senza confini, in 3 mila al Filadelfia, per il toro che nasce. Atmosfera da festa popolare, applausi al top per Zapata, Evanoli, che parte subito molto forte. Piccoli e Zortea, pronti due colpi per Nicola, grazie allo stesso Jasmine, Paolini d'applausi, ma finale amara, sì, ho sognato, ora sono triste. L'Azzurra parte male, reagisce, vince il secondo set, poi cede alla Crici-Cova dopo quasi due ore. Wimbledon, conquistata dal suo sorriso, voglio restare a questi livelli. Barbara, è la Barbara in Zortea, Slavo, è rinata, sono cresciuta a ogni partita. Carlos, sfida regale, Alcaraz, Diokovic, quando la rivincita, può valere la storia. Queste le pagine dei giornali, bella la notizia che, di Andrea Ramazzotti, indiscrezione, che potrebbe, Teo Hernandez, presto chiudere con il Milan, per quello che riguarda il rinnovo, sarebbe uno dei più belli acquisti di questa campagna, rafforzamento. Da sottolineare ancora, le linee diverse del Corriere dello Sport, rispetto a tutto sport, per quello che riguarda il discorso Abram e la Gazzetta, peli ognuno appunto alle sue fonti, alle sue versioni, noi le leggiamo tutte, così vi farete poi un'idea di quello che potrà succedere. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Grazie a tutti.